Bella a tutti ragazzi, vi trovate in questo nuovissimo video Oggi siamo qui, vi trovate su Fortnite e oggi siamo qua per fare una Skybase pazzesca Iscrivetevi al canale, iscrivetevi al canale, lasciate un bel mi piace Condividete il video con tutti i vostri amici 15 like per una prossima challenge E se arriviamo a 30 like Faremo una Skybase con le macchine Marte e Pim Pong Bella Purtroppo Pim Pong non lo so, non so se lo sentirete bene Perché ha dei problemi Purtroppo non possiamo farci nulla E ragazzi, come avete capito, dovremo fare una Skybase E per farlo ci servono i pugni Però noi vogliamo quelli mitici Qua c'è un player ragazzi, che ha voluto fare la nostra stessa idea C'è più di un player, c'è un team che mi sta inseguendo a piccone Ragazzi, aiuto Mi stanno inseguendo a piccone, aiuto Farò solo in 3 Ma vogliamo vedere Bling dove sta? Ragazzi sono in 3 che mi puntano Ho i guanti, ho trovato i guanti Morto 1 Ma tu hai visto Bling dove sta? Dov'è? Guardalo Ma veramente ragazzi Un'assurdità a questo ragazzo Dobbiamo andare a killare Dobbiamo andare, dai Fra, sono da me Ok, killati Ma tu, ragazzi, dobbiamo fermarli Pim Pong stanno venendo verso di te, i camioncini lì Eh, lo so, per questo non vengo qua Eh, sei troppo avanti te, è vero, Fran Sei troppo avanti te Vai, Marte, andiamo Perché 3 quarti d'ora a sparare al boss Non l'ho ancora killato Marte è già morto due volte di fila Sei morto Sei morto, però, Fra Sempre al top te Ok, adesso vai a curare tu Quell'este Non ti azzardare Dammi tutto Dammi il medaglione A parte che il medaglione devi buttarlo giù Sennò ci vedono Il medaglione, ragazzi, lo buttiamo in mare Vai a curare Marte E iniziamo la skybase qua, ragazzi, eh Qua a gran, gran ghiacciaio, ragazzi Eh, però c'è un problema Non abbiamo preso neanche un mazzo Io sono full di tutto Io sono full di tutto Stanno curando Mancate voi Stanno curando Non è possibile, ragazzi Dove? Ah, qua Spararli non ti va? Non te la senti? No, non ce la sentivo Non me l'ho ucciso Bravo, bravo, bravo Curiamo stop bot Curiamo stop bot Ragazzi, stiamo iniziando la skybase Con l'architetto ping pong Ma c'è un po' di nebbia Non vedo nulla Ok, sei andata Ragazzi, sensazione a caldo Voi due? Cosa pensate? Come andrà a finire, secondo voi? Eh, andrà a finire molto bene stavolta Ok Tu, ping pong Grazie per la risposta Ping pong Sempre sul pezzo Non è che spacca tutto Sempre sul pezzo, ragazzo Ok Ok, no, ma Guardiamo le sue tattiche Le sue mosse, vai Dovresti iniziare ad andare dritto, fratello Grazie Ok, ragazzi Non verrà mai pagato ping pong A fine mese Gli abbassiamo il stipendio Anzi, ci deve pagare lui a noi Stiamo procedendo tutto per bene Siamo in 15 player Però, ping pong Dannazione Ma hai finito il legno per caso? Sì Marte, dai il legno Cosa stai facendo? Dimmi C'è un po' di delay che mi è storto Allora La safe è questa Ci sono i bunker Le isolette Le tesle Attento a non cadere Fra l'ultima skybase Che abbiamo fatto Risale all'anno scorso Ragazzi, con i raptor Ed è volato giù il ragazzuolo Non è vero Si è caduto giù In quella Chi siete voi? Che cantante sei te? Eh Johnny Johnny Lama Johnny Lama? No, pensavo J Lord Scusa E te invece? Eeeh Niki Ah, ma un croano Va bene ragazzi Siamo al centro della safe ragazzi Torniamo indietro Torniamo indietro Spacchiamo tutto Frate È un trick Torniamo indietro Venite che spacco No, non spaccare Non devi spaccare Sì, dobbiamo tornare indietro Fra Ce la vedono sono Non importa Fra Magari ci Uno è a terra La safe sta tornando indietro Quindi piano piano spacco tutto Perché sennò ci vedono Siamo in sei Fra Cioè, ragazzi Siamo in sei 2v2 Calma ragazzi Calma ce la possiamo fare Abbiamo i guanti? Sì Pimpong? No, vabbè Un caso a parte ragazzi Lui si lancerà di testa Allora Lui è un po' speciale Si lancerà di testa Pimpong vai avanti Cammina Allora ragazzi Siamo in sei Ma voi vedete i player Per caso giù? No Vi ribadisco la sfida ragazzi A 30 like Facciamo la skybase Con le macchine Ma lo sai che veramente Conviene spaccare No Forse Guarda Se dovevo ascoltare te Fra Eravamo già per terra Quest'ora Quindi Pimpong Non è vero Non è vero Ti sto trollando Che bel troll Fra Anche perché era fuori safe Non può esserci gente Comunque sai che No Torrata di là Non ci credo Frate Torrata di là Frate c'è un problema Dobbiamo andare in diagonale Perché in diagonale? Ah va bene Vai Vai Pimpong Vai dritto No frate Ci mettiamo due ore Ci mettiamo eh E' meglio se Pimponga il build No frà No Inizia adesso Inizia la sei Inizia Inizia Corri veloce La sei È veloce frate Veloce Veloce Martegira Ti guarda È abbastanza È abbastanza Veloce Fra sotto di noi C'è quel medaglione Preparatevi Quei guanti Teniti i guanti Selezionati Ma col piccolo Piccolo in mano Se no Attento Fra Allora devo tenere Il piccone E il guanto Frate No Il piccone Ma in modo che Appena clicchi il triangolo C'hai subito i guanti No Fra Svegliati Sono sotto di noi Raga Dov'è Ecco lì Fratelli vedi Sono quella moto Sì fra Ma sono sotto di noi Sono sotto Sono sotto Se alzano la testa Facciamo visto Ping pong Vai un po' più piano Fermati 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 fratello So che ti sei fatto Prendere la mano Tieni un po' di Di materiali Che poverino Se no Tieni Dai Se no poi non mi da più Ok Allora Frate Sono sotto di noi Ma noi siamo quindi Ah ma siamo In trio È vero ragazzi Io prima ho detto 2v2 Siamo 3v2 Ragazzi È vero dai Rimaniamo fino a quando Non abbiamo più in mazzo Dai Guardali Guardali Hanno i guanti È dannazione Fondazione Hanno i guanti Tira dritto Tira dritto Tra poco ci beccano Fratello Stanno spaccando Stanno spaccando Ci hanno spaccato ragazzi Scendiamo Lei ha usato i guanti Vai E sto provando a spaccare un attimo le bille che non li vedo Preso puni Mamma mia pure con la corona ragazzi Che partita Vinta anche questa sky base Ragazzi Mamma mia Che partita ragazzi Che partita Ringrazio L'architetto ping pong Il guerriero marte Grazie ragazzi Grazie Grazie Iscrivetevi al canale Ative della campagna Un bel mi piace 30 like sky base Con le macchine E vi do un'altra challenge 40 like sky base Con l'autobus Mamma mia ragazzi Sarà difficile Quindi spolliciate Io mi chiamano Al prossimo video Bella Bella Siccome il video è durato troppo poco Non pensavo Vi lascio una parte di video Di una sky base Che non è mai uscita sul canale Però ve la lascio Guardate a me Non agitatevi No vai tranquillo Ascoltate un saggio finicottero Ricordate Soprattutto tu Che hai gli occhi a palla E non che lui non ce li abbia Lui è brutto e basta Non tutte le ciambelle Riescono con il buco ragazzi Ma perché c'è l'occhio chiuso E ti hanno picchiato? Non lo so Ragazzi dov'è la safe? No ragazzi la safe La safe Ma se tipo ci lanciamo sul treno? Ma secondo voi Le nostre schifo Se ci lanciamo Spiccano il volo Che trick è? Poi dopo sarto carpiato Ma cosa stai facendo te? Pobre del cavolo Questo è rimasto E' del mestiere Spero appunto Che questo video vi sia piaciuto Se così fosse Iscrivetevi al canale Tutte la campagna di lecita Un bel mi piace 30 like Skybase Con le macchine Ci divertiremo un botto Quindi spolliciate Mi raccomando E ci vediamo Nel prossimo video Bella Ciao a tutti Ciao a tutti